visita di papa francesco a verona in diretta sabato su tv 2000 alle 8 speciale il diario di papa francesco per seguire alle 8 e 30 l'incontro con sacerdoti e consacrati alle 9 e 15 nella piazza della basilica di san zeno incontro con i bambini e i ragazzi alle 10 e 15 incontro arena di pace giustizia e pace si baceranno alle 11 e 45 incontro con gli agenti di polizia penitenziaria i detenuti e i volontari alle 14 e 30 speciale il diario di papa francesco per seguire alle 15 dallo stadio bentegodi la santa messa